Così c'è ambiente c'è stato un gruppo di lavoro di 40 persone che avevano il mandato di raccogliere tutto ciò che doveva essere riformato, anche rispetto alla modifica dell'articolo 941 della Costituzione. Si sono esercitate nel produrre un quantitativo notevole di documentazione anche con una serie di loro ipotesi di intervento specifico, questo dovrà essere valutato politicamente dal governo, quindi a partire dal mio ministero naturalmente, ma complessivamente dal governo della maggioranza.